Via Reggio, capitale italiana della cultura 2024, un'ipotesi sempre più vicina. La perla del Tirreno, infatti, è risultata fra i dieci territori che rimangono in lizza per la nomina. Un traguardo già importante che trova il plauso, oltre che del sindaco Giorgio Del Ghingaro, che fortemente ha voluto iniziare questo percorso, anche dei vertici politici regionali e nazionali. Congratulazioni, infatti, sono arrivate dal senatore PD Andrea Marcucci e dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Sono veramente contento di questo risultato perché intanto dà credibilità alla nostra proposta, zettisce le tante male lingue che trovavano perfino da ridire sulla nostra candidatura e rafforza il nome di Via Reggio in Italia e in Europa. Sono veramente molto contento, ringrazio tutti coloro che ci hanno lavorato e tutti coloro che ci hanno voluto dare il loro sostegno. Un successo, quello certificato dal primo stepo di oggi, che da Via Reggio è destinato a irradiarsi a tutta la provincia, dalle montagne al mare e alla costa, con un'unica colonna sonora, quella delle note di Giacomo Puccini. Il prossimo appuntamento è per il 4 marzo al Ministero della Cultura e dei beni culturali per l'audizione del progetto. C'è da vincere la concorrenza di realtà importanti, fra le quali Pesaro, Siracusa, Vicenza e Pestum, ma già una prima scrematura è stata fatta e Via Reggio c'è.